A un anno dalle elezioni regionali il governatore Crocetta svela le prime carte, riconfermerà la sua candidatura a presidente della regione per tentare di bissare il successo del 2012, successo frutto allora dell'appoggio determinante del PD messinese guidato da Franco Antonio Genovese e Franco Rinaldi che oggi fanno parte di Forza Italia e vedono in Crocetta il nemico politico numero uno. Io sono candidato, sono i cittadini che devono decidere, ha affermato Crocetta, la festa dell'unità del PD che si sta tenendo a Catania, ho vinto le elezioni sulla base di una proposta politica chiara e alternativa, noi pensiamo che dobbiamo basare il nostro progetto politico senza trasformismi, questo è il Crocetta Pensiero che tra 12 mesi forse meno dovrà anche fare i conti con quel che resta del PD a Messina. Ben oltre 45.000 voti di preferenza complessivi in provincia ottenuti dal PD e di questi più di 18.000 conseguiti quattro anni fa dal solo Rinaldi prima che l'inchiesta sulla formazione professionale facesse conoscere i risultati dell'accusa. A Messina nel 2012 Crocetta ottenne 93.000 voti con il PD genovesiano che gli garantì 51.000 preferenze, più di 28.000 l'Udc di Giampiero D'Alia e 10.000 il movimento Crocetta Presidente. Voti determinanti in Sicilia per l'elezione di Crocetta contro Nello Musumesci. Grazie a tutti.